Il tema dell'obbligo vaccinale è tutt'altra questione. Io sono contrario all'obbligo vaccinale, credo che il modo più serio di fare una campagna vaccinale seria sia informare le persone, dare loro sicurezza, fare una campagna trasparente, cioè tutto quello che non abbiamo visto da parte delle istituzioni. Però sicuramente quello che sta facendo il governo italiano è ancora peggio, perché si introduce con il Green Pass un obbligo vaccinale di fatto senza assumersi la responsabilità di introdurre l'obbligo vaccinale. E sa perché? Perché per la legge italiana se lo Stato mette l'obbligo vaccinale si assumerà le responsabilità dei rischi e indennizza, mentre quando noi andiamo a fare il vaccino firmiamo uno scarico di responsabilità. Io non credo che sia un modo serio di affrontare la campagna vaccinale.